Oggi faceva troppo freddo, vi giuro, e quindi mi sono messa anche il cappellino e mi sono messa tre peppe sotto e siamo a Settembre. Questa è mia zia. Ciao! Sta a parlare in italiano, quindi molte cose oggi ve le spiega lei. Vero zia? Sì. Grazie. Bentrovati! Oggi Seifra si trovano in Polonia e vi porteremo con noi la scoperta di Etlice, un piccolo paesino vicino all'Ucraina. Che andiamo a vedere? Zevo, con la sua parte. Allora, vicino a una scuola c'è un albero secolare che si chiama Bartek. Andiamo. La strada è questa, per farvi capire dove stiamo. Liceo. Ah, questo è un liceo. Eccoci qua. È un liceo. Mi sto raccontando zia che dentro fa tutto il legno, è molto attivo e infatti è bello. Mi sono messa il mio anello rana, che qua è perfetto. Ecco la scuola. Prima questa scuola era un palazzo e questo tutto è il parco dell'attuale scuola. Il parco dell'attuale scuola è un palazzo. ma in tutta l'Europa. Eccolo! Che carino! Va bene, camminiamo ancora. È proprio bello camminare qua. Grazie per averci seguito in questa nuova avventura e come al solito lasciate un bel like e fateci sapere se questo video vi è piaciuto. Ciao! Ciao! Ciao!